Ben ritrovati amici di Juventus News 24, questa sera a semifinale di Andata al Franchi tra Fiorentina e Juventus. È una domanda che proviamo a farci insieme e la risposta è piuttosto ovvia, ma fino a un certo punto. Perché se l'arbitro guida dovesse concedere un calcio di rigore in favore per la Juventus, chi lo tirerebbe? Facile dire Vlaovic, però forse non è così scontato, andando anche a vedere i precedenti. E adesso ci arriviamo. È chiaro che manca Dybala, è infortunato, manca Bonucci che sicuramente non partirà dal primo minuto e quindi tutti gli indizi vanno su Dusan Vlaovic. Però c'è stato un giocatore, e lì dobbiamo tornare indietro di diversi anni, che proprio nella prima partita al suo ritorno a Firenze contro la Fiorentina si rifiutò. I più anziani avranno già capito. Per tutti quelli che ancora non l'hanno capito, spoileriamo subito. Si tratta di Roberto Baggio. Il 6 aprile 1991 Baggio tornò per la prima volta d'avversario a Firenze contro la Fiorentina. E proprio in quella partita si rifiutò di tirare un calcio di rigore. Non se la sentì dal punto di vista emotivo, probabilmente ancora troppo legato ai suoi ex colori e colori viola. Rifiutò di tirare un calcio di rigore e andò sul dischetto di Agostini, che sbagliò però Maregini. E poi quella partita passò alla storia, oltre al gran rifiuto di Baggio. Proprio durante il suo cammino verso l'uscita del campo fu sostituito. Un tifoso gli tirò una sciarpa della Fiorentina, lui la prese e se la mise al collo. Un episodio che ovviamente scatenò l'entusiasmo dei tifosi della Fiorentina. Lasciò un pochino perplessi quelli della Juventus, ma chiaramente sono passati decenni da quell'episodio. E anche dal punto di vista caratteriale, Vlaovic e Baggio non sono così simili. Quindi è chiaro che se dovesse esserci un rigore per la Juventus, è abbastanza scontato aspettarsi Vlaovic. E non credo che ci sarebbero particolari problemi da parte del serbo di calciare in porta contro la sua squadra. Questioni di caratteristiche chiaramente diverse, anche caratteriali. È normale che si parli anche di questo episodio. Ci sono stati tanti episodi, tanti trasferimenti, tante operazioni sull'autostrada Torino-Firenze e viceversa. I tifosi della Fiorentina non l'hanno presa benissimo, quest'ultimo passaggio da Firenze a Torino. Però parlare di tradimento è ingeneroso, è ingeneroso per diversi motivi. È chiaro che la differenza tra Baggio e Vlaovic è anche una piuttosto rilevante. Ovvero Baggio nel 90 fu convinto ad accettare la Juventus, ma era molto molto combattuto. Il suo trasferimento tra l'altro scatenò una sommossa popolare a Firenze. Lui probabilmente sentiva tutto questo e sarebbe rimasto volentieri alla Fiorentina ancora qualche tempo. Dall'altra parte invece Vlaovic la sua scelta l'aveva fatta. Piuttosto chiaramente ha voluto e voleva la Juventus a tutti i costi e la Fiorentina poi ha accettato l'offerta della Juventus. Parlare di tradimento in questo caso è ingeneroso perché? Perché di fatto la Fiorentina ha messo Vlaovic sul mercato, ha fatto una richiesta. La cifra corrisposta dalla Juventus è quella che chiedeva la Fiorentina. Tra l'altro nelle parole di Prade che molto lucidamente a Sport Italia ha detto noi possiamo ragionare su vendere Vlaovic, queste sono le cifre e qualora qualche squadra fosse interessata queste sono le cifre. La Juventus è stata interessata, ha pagato le cifre, convincere il giocatore non ce n'è stato bisogno perché insomma voleva fortemente la Juventus e si è arrivati a questa operazione che chiaramente ha scontentato i tifosi viola, però parlare di tradimento è quantomeno inopportuno viste tutte le condizioni e visto il fatto che alla fine la Fiorentina è stata molto soddisfatta di questa operazione che è andata a riempire le casse del club. Un percorso chiaramente diverso tra Baggio e Vlaovic anche se poi nelle interviste di questi giorni nell'immaginazione dei tifosi viola soprattutto è uno dei tanti episodi che hanno costruito questa storia, questa accesa rivalità tra Firenze e Torino negli ultimi anni. Tra l'altro proprio nella giornata di ieri ci sono stati degli appelli decisi da parte della società viola intanto di evitare corri razzisti e discriminatori nei confronti di Vlaovic allo stadio ha fatto eco a questo appello anche il sindaco di Firenze Nardella che ha parlato proprio di mantenere la questione a livello sportivo con sfottò ironia ma soltanto a livello sportivo. Ci si aspetta un'accoglienza mirata nei confronti di Vlaovic, ci si aspetta Fischi, ci si aspetta insomma che sia preso di mira e la tifosera viola lo sta aspettando da quando diciamo la Juventus ha passato il turno contro lo Sassuolo. Ecco così. Detto questo bisogna considerare anche il fatto che Vlaovic è un giocatore che ha dimostrato tanto. Per lui sarà una prova di maturità ulteriore, ne ha fatte tante nell'ultimo periodo, ne ha fatte con la maglia della Juventus, il debutto in Champions, siglando un gol tra l'altro al suo debutto in Champions dopo 32-33 secondi. Un altro step, e l'ho detto ieri in conferenza stampa, che tra l'altro non perde occasione di proteggerlo dicendo abbassiamo le aspettative su Vlaovic, non c'è soltanto lui, per lui sarà una partita particolare, è una prova di maturità perché ritrovarsi di fronte al suo passato non è semplice per nessuno, specie per un ragazzo di poco più di 20 anni. Però è un ragazzo anche che ha dimostrato di sapere quello che vuole, anche in serie di mercato, e di avere le spalle larghe. L'ho dimostrato con la maglia della Juventus, che a lui è pesata molto meno che a altri, si è preso la Juve con quattro gol, subito decisivo nelle manovre, tanto che magari avrebbe potuto riposare, però in questo caso, e ne parliamo dopo, Allegri sembra intenzionato a schierarlo dal primo minuto. L'emozione di ritrovare la sua ex squadri, sui ex tifosi, sui ex compagni, lo condizionerà, la risposta la vedremo in campo, però, ecco, a livello emotivo forse Baggio era un pochino diverso, subiva un pochino di più situazioni di questo genere, la sensazione è che Vlaovic sia un pochino più robotico da questo punto di vista, non meno emozionale, meno emotivo, va dritto al punto, devo giocare, stasera gioco contro la Fiorentina, ok, è un avversario come le altre, devo fare gol. Questa è la sensazione, poi chiaramente la risposta la sa solo il serbo, o la sa solo il campo, vedremo questa sera cosa succederà. È una prova di maturità per Vlaovic, è una prova importante anche per la Juventus, che sta collezionando risultati utili consecutivi, è in rimonta in campionato e ha la Coppa Italia come suo obiettivo stagionale, al pari del campionato, al pari della Champions. La Juve si vuole giocare la Coppa Italia, anche perché in semifinale manca poco, manca l'andata, manca il ritorno, è un'eventuale finale, quindi sarebbe delittuoso non pensarci, ma è chiaro che Allegri deve gestire anche una situazione complicata, complicata, lo stiamo dicendo da diversi giorni, però purtroppo non accena a diminuire l'emergenza juventina, nove giocatori indisponibili, praticamente una squadra intera per Max Allegri, che però non rinuncia a sperimentare e a provare cose magari diverse rispetto a quel che ci si poteva aspettare. Perché? Perché nella giornata di ieri ha provato un 3-5-2 con Vlaovic titolare, quindi la sensazione è che potrebbe giocare dal primo minuto, dovessimo provare, metteremmo Vlaovic dal primo minuto, ecco lì da capire se è in coppia con Morata, favorito su Ken, la sensazione è che potrebbe veramente rispolverare lo stesso 3-5-2 già visto e apprezzato contro il Villareale. In Spagna l'alternativa è un 4-4-2, però di fatto cambia poco, cambia soltanto la posizione dell'esterno destro, di fatto i giocatori sono quelli anche perché non ne ha tantissime altre disposizioni, ci sono 4 dell'Under-23 convocati, tra questi Marley e Ake. Attenzione ad Ake perché è un giocatore che sta facendo bene, si sta costruendo un percorso e sta dando delle ottime indicazioni anche in prima squadra, anche quando è aggregato, quando si allena con i grandi. E la sensazione è che potrebbe anche lui giocare dal primo minuto a destra e in balottaggio con Quadrado, però Allegri è molto tentato da concedergli una maglia di titolare, vedremo. I dubbi di formazione per il resto sono pochi, in difesa riposerà Bonucci, quindi ci sarà Danilo al centro della difesa, ci sarà Delicte al centro della difesa con Danilo e De Sciglio, questi se dovesse giocare a tre la Juventus e poi Ake o Quadrado a destra a centrocampo, dall'altra parte Pellegrini. Trio obbligato a centrocampo, pochi dubbi davanti con Vlaovic pronto a scendere in campo dal primo minuto contro la sua Fiorentina, se poi dovesse esserci un calcio di rigore vedremo, ma la sensazione è che sul dischetto si presenterà proprio il serbo. Queste sono le ultime verso la partita di questa sera, semifinale di andata di Coppa Italia, se avete dei commenti, delle considerazioni, anche delle domande scriveteci nei commenti, ricordatevi di scaricare l'app gratuita di juventusnews24.com per rimanere sempre aggiornati su qualsiasi cosa, riguardi la Juventus e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale YouTube. Ciao!